Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul canale venerdì 19 gennaio. Ci proiettiamo alla fine della settimana e all'inizio di un weekend che porterà la Juve a disputare una partita importante di campionato alla Via del Mare di Lecce. Una partita da non sottovalutare, ma importante perché qualora la Juventus dovesse fare il risultato pieno, ovviamente vorrebbe dire per un pochino testa della classifica. Perché l'Inter, come ben sapete, è impegnata nella Supercoppa Europea in Arabia e quindi per la Juve si prospetta la possibilità di rimanere e mettere ulteriore pressione in vetta e mettere ulteriore pressione ai nerazzurri. Nel contenuto di quest'oggi commentiamo le uscite su Moise Ken che se ne va e appunto sul flop Supercoppa. Prima di farlo, avendo visto l'analisi dei contenuti, l'analisi settimanale che recita che ci sono tanti utenti che guardano il video ma non sono iscritti, che tornano a vedere il video ma non sono iscritti, beh, l'invito che posso farvi ovviamente a me farebbe piacere, spero anche a voi che vi convinciate ad iscrivervi al mio canale YouTube, assenando la campanella notifica e mettendo un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando che questa possa essere stata di vostro gradimento. Cominciamo subito con la situazione di Moise Ken perché ieri, mentre ero ospite dell'ottimo quintiliano Giampietro a Fuori di Juve su Radio Bianconera, è arrivata la conferma, si sapeva già della partenza della voglia di partire di Moise Ken, destinazione atletico Madrid, però è arrivata la conferma da parte di Gianluca Di Marzio del non rinnovo del contratto prima della partenza da parte di Ken. Ora, la situazione è abbastanza chiara, Ken ha chiesto alla Juve di poter essere ceduto perché ha capito che non ci sono più i margini per rimanere, in funzione delle sue aspettative, cioè la sua ambizione è quella di fare l'Europeo, per poter fare l'Europeo alla luce dell'esplosione e dell'ascesa di Kenan Hildiz e con una Juve che gioca fondamentalmente soltanto il campionato e qualche partita di Coppa Italia, speriamo tutte quelle di Coppa Italia, però ecco gli spazi sono notevolmente ridotti, il minutaggio può essere veramente esiguo e quindi per potersi giocare le proprie chance ha chiesto alla Juve di poter andare a giocare altrove. Si è aperta lo spiraglio Atletico Madrid perché l'Atletico Madrid ha Joaquin Correa in uscita, cerca una punta da fare fondamentalmente da vice Morata, ma comunque da poterlo impiegare anche in affiancamento allo stesso Alvaro Morata, l'operazione si può concludere se si riuscirà a trovare la quadra dell'uscita appunto di Joaquin Correa, perché tra la Juve e il giocatore Moise Ken è tutto fatto, sono d'accordo per l'eventuale ridiscussione del rinnovo soltanto al rientro del prestito, il prestito è un prestito secco, l'Atletico Madrid si accolerebbe la parte restante di stipendio che il giocatore deve percepire di qui al 30 giugno e non ci sarebbero obblighi e vincoli particolari, pertanto si attende solo l'uscita di Joaquin Correa. Sulle uscite, dopodiché è un'operazione praticamente via definizione e credo che per come si è ormai sviluppata la situazione non ci siano i margini per una permanenza di Ken alla Juve e quindi sono abbastanza possibilista sulla chiusura di quest'operazione. Vediamo, di sicuro dovesse rimanere per lui le porte veramente del minutaggio sarebbero sempre più ristrette. Per quanto riguarda le altre uscite, si è vociferato in questi giorni di tre situazioni, due riguardano due giocatori e poi un'uscita possibile, importante. Allora, di cosa si parla? Beh, di Danilo per il quale lui stesso è intervenuto e ha detto candidamente la rabbia non mi interessa, quindi le offerte relativamente al giocatore provenienti dalla Saudi League non sono state nemmeno prese in considerazione, quindi escludete proprio l'uscita di Danilo in direzione Saudi League. Per quanto riguarda Filip Kostic, beh, è un giocatore che, voi sapete, la Juve aveva cercato quest'estate di vendere non tanto perché non fosse convinta o contenta del rendimento del giocatore, quanto per il fatto che la Juve dovesse abbattere il montengaggi, abbassare i costi di gestione e quindi magari anche monetizzare attraverso giocatori non ritenuti progettuali. Questo tra l'altro ha portato anche degli strascichi nel rendimento poi in stagione di Filip Kostic, che non è più tornato quello che avevamo conosciuto la passata stagione, ha un rendimento decisamente deludente, per lo meno per noi commentatori, per noi tifosi non all'altezza di quello che avevamo visto la passata stagione, non è così per Massimiliano Allegri che lo ha definito recentemente, tra l'altro, un giocatore di sistema, senza picchi assoluti ma nemmeno con dei grossi down. Va da sé che è un giocatore che, proprio perché è di sistema, è ritenuto da Max Allegri fondamentale negli equilibri. È il titolare del ruolo, che che se ne dica, dubito, anzi escludo che possa lasciare la Juve a stagione in corso. Per quanto riguarda la Juve potrebbe avvenire qualora arrivasse un'offerta veramente importante da poter consentire monetizzazione ai bianconeri ma questo dubito possa arrivare. Per quanto riguarda invece il giocatore lo escludo anche dovesse arrivare un'offerta importante perché il giocatore, a quanto mi risulta, non vuole lasciare la Juve a stagione in corso, sarebbe disposto eventualmente a rivalutare il tutto in fondo alla stagione e quindi sulle uscite, beh, io non mi aspetto. Oltre a Mois Ken, quella di Ranocchia è stata ratificata ieri e sapete che è ufficiale, oltre a Mois Ken non mi aspetto altro. Però si è vociferato negli ambienti che contano anche di una possibile uscita importante proprio perché la Juve cerca un centrocampista vorrebbe farlo già in questa sessione di mercato e allora qualche d'uno ha paventato attraverso le proprie fonti che se la Juve dovesse fare un'uscita importante, beh, non sarebbe escluso anche l'arrivo di un centrocampista importante. Ora, quale potrebbe essere l'uscita importante in questa sessione di mercato della Juve? Ce n'è forse soltanto una e sarebbe quella di Mattias Soule, giocatore che è ambito in Premier League, ha destato l'interesse di molti, però proprio circa dieci giorni fa la, diciamo, mia informazione, parlando con persone vicine all'ambiente, mi è stato detto che non ci sono interessi da parte della Juve di poter fare uscire il giocatore in questa sessione di mercato, si vuole arrivare fino in fondo anche perché con questo andamento il prezzo, il costo, il valore del cartellino di Mattias Soule sarebbe ulteriormente lievitato e la Juve non ha interesse né necessità di fare questa uscita nell'immediato. Quindi uscite importanti io non ne vedo, personalmente non ne vedo e ingressi, ne ho parlato ieri e resto fermo su quella, fondamentalmente su quella posizione. Per quanto riguarda il, di chi ne abbiamo detto, delle uscite ne abbiamo detto, per quanto riguarda il discorso del flop Supercoppa, beh, l'ho espresso sul mio profilo social X ieri, vedendo gli spalti della partita Napoli-Fiorentina. Ora, già gli arabi si sono espressi all'arrivo delle squadre, avrebbero gradito la presenza di Juventus e Milan, che magari con Inter e Napoli avrebbero formato il quartetto, diciamo, più fruibile, più spendibile, più vendibile del prodotto calcio Italia. Non è stato, delusione sì e non ne hanno fatto mistero, credo anche la risposta del pubblico alla partita Napoli-Fiorentina sia stata abbastanza eloquente su quanto sia un flop la scelta della Lega e della FGC di andarsi a giocare questo avvenimento, quest'evento, in queste condizioni. È chiaro che a livello di monetizzazione le squadre incasseranno la Lega e FGC altrettanto, però credo che bisognerebbe prima di tutto dare un valore al prodotto che si propina, al prodotto che si vende e quindi da questo punto di vista credo che FGC e Lega dovrebbero rivedere abbastanza di quella che è la programmazione e la progettazione del prodotto calcio Italia. Sicuramente lo spettacolo visto ieri in Napoli-Fiorentina, non parlo nel rettangolo di gioco, ma nel contorno è eloquente di quanto il prodotto calcio Italia oggi non sia un prodotto ambito, non sia un prodotto ricercato, se non in quelle due o tre squadre che fanno ascolti e tra quelle c'è certamente quella che si è cercata di rovinare e di massacrare anche nella passata stagione che si chiama Juventus, che piaccia o non piaccia e questo testimonia una volta di più quanto quello che è stato raccontato il calcio dei popoli che prevede con tutto il rispetto e non è un'offesa, sia chiaro e lo voglio sottolineare la presenza della Fiorentina che è certamente una squadra più del popolo per come è stata impostata il concetto di calcio del popolo, beh come vedete il calcio del popolo poi alla fine va sempre dietro al dio denaro e allora il dio denaro ha portato la FGC, la Lega a portare il prodotto calcio in Arabia al tempo stesso si è completamente evidentemente dimenticata di dargli un valore perché evidentemente non c'è lo stesso appeal se questo avesse riguardato squadre che hanno certamente in quel mercato una maggior influenza, un maggior seguito, un maggior ascolto e che avrebbero portato altri tipi di incassi. A me onestamente pare di poterlo definire un flop, vedremo poi quel che sarà, io auguro alle prossime squadre di giocare in un contorno diverso perché credo che il calcio sia bellissimo anche se poi contornato di tutto quello che, e lo abbiamo visto ieri, perlomeno io l'ho visto, auguro che lo abbiate visto anche voi, mi auguro che lo abbiate visto anche voi tra Atletico Madrid e Real Madrid dove il contorno fa la differenza e la fa tremendamente quell'Atletico Madrid che magari potrebbe abbracciare Moise Ken. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto come sempre fino alla fine. Forza Juve, ciao!